La gioia di Napoli è esplosa sul lungomare Caracciolo per l'incontro tra Papa Francesco e i giovani. Il pontefice, apparso un po' stanco per dieci ore davvero intense di trasferta, ha conversato con famiglie, ragazzi e anziani prima di ripartire per Roma. Una festa della fede declinata con i suggerimenti del successore di Pietro sulla vita, che va amata anche quando Dio si chiude nel silenzio, anche quando si avvia al tramonto, anche quando ti sfida con non poche difficoltà. Ai giovani Papa Vergoglio ha chiesto di non scoraggiarsi, anche se la società li lascia senza lavoro e senza futuro, li ha invitati a credere nel matrimonio, pur se oggi duramente in crisi e sotto attacco con la colonizzazione ideologica della teoria del gender che crea tanta confusione. Pregare tanto, questo è stato il consiglio principale, per vivere ogni giorno una sorta di primavera, per non perdere la speranza di andare avanti. E proseguire la strada della vita vuol dire anche andare incontro alla vecchiaia con tutte le difficoltà che ne conseguono, di cui l'invito a non abbandonare gli anziani, memoria e saggezza, ma avere per loro attenzioni e tenerezza la migliore medicina. Con il mare dinanzi agli occhi e la speranza nel cuore, la città di Napoli ha abbracciato con calore Papa Francesco, che si è congedato con un affettuoso Camaronna ci accompagna. Grazie a tutti.